Sono le ultime battute di prova. Fra poche ore al Quirinale il discorso del presidente Mattarella e il concerto offerto agli ambasciatori accreditati apriranno ufficialmente le celebrazioni per la festa della Repubblica. Una festa che rinnova, nelle parole che il capo dello Stato ha inviato ai prefetti, la necessità di prendersi cura della nostra democrazia e dei suoi valori fondanti, pace, libertà, uguaglianza, solidarietà sociale. Ideali che sono all'orizzonte di azione dell'Italia anche in questo drammatico frangente dell'aggressione della Russia all'Ucraina. Di fronte alle sfide complesse la risposta del Paese, delle istituzioni, delle amministrazioni locali è sempre stata all'altezza di questi valori, come dimostrato recentemente nell'accoglienza dei profughi ucraini. Ma prendersi cura della Repubblica significa anche lavorare con spirito di unità e coesione sociale per il suo futuro, dunque per attuare quel piano nazionale di resilienza che ci assicura i fondi europei. Un'occasione, ribadisce Mattarella, che non possiamo perdere. Di qui il richiamo forte alla politica perché si attuino le riforme necessarie a costruire l'Italia di domani e a garantire un futuro di progresso a tutti i cittadini.